Adesso quando siamo lì parcheggiamo poi c'è una corda dobbiamo arrampicarci su per la corda Marco per andare su in cima. Arrampicchiamo. Ti ricordi? Era un po' faticoso eh? Sì. Bene, 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 c'è un castello, ci sono tre castelli, per noi c'è una colina così uguale, un lungo, una colina, poi uno, qua c'è il castello, da noi c'è tipo di, un monastero, stupa, in tre posti diversi, e poi c'è la stupa d'epoca, della storia, della 1700, su Torino. Che cosa avete mangiato stamattina? Io piedi, pane, pane con cioccolato, latte, poi nutella, caffè, caffè, un po' di caffè, e poi latte, latte senza l'uovo. Allora, adesso a proposito del latte, Roberto, se volete fare rifornimento per non rimanere senza e che non vada in scadenza, prendete latte simil, che è lunghissima scadenza, se vi piace. Quello che avevo preso io era latte simil, era buono, vi piaceva? Comunque, domattina, se vi fa piacere, vi accompagno anch'io, poi... Hoi! La strada è curva. La strada è curva. Allora, sai cosa faccio? Faccio giro, poi la metto lì, tanto il sabato la banca è chiusa, la metto lì, la macchina, così siamo tranquilli. Alla banca. Ma anche qui però... Alla banca. C'è il coso bianco, qui non si parte. Però vedete i controlli? Vedete i controlli. Grazie. Grazie.